centro dello studio come di consueto con il classico selfie che chiude ogni appuntamento di caffè sport, Saba se la prende comoda si beve anche un bicchiere di acqua, acqua o acquavite come venerdì scorso e allora eccoci qua pronti in posa per il classico selfie un grazie particolare a Alessio Ceccagnoli, Nicola Ceccagnoli, a Roberto Damaschi e Francesco Cancellotti, noi ci salutiamo, buona settimana a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti